Mercoledì 30 gennaio siamo andati all'inaugurazione di Prisma, mostra del DAS in occasione di Art City, visitabile fino al 10 febbraio. Ciao, un piacere, sono Carolina Guardabascio e vi racconto che cos'è DAS, è un dispositivo di arti sperimentali che nasce in via del porto 11-2 grazie alla vittoria di un avviso pubblico che è riuscito a dar vita attraverso un finanziamento a questo progetto animato e gestito da un ente formato da tante associazioni che si occupano di produzione artistica all'interno del territorio bolognese. Oggi ci saranno più eventi, non ci sarà semplicemente una mostra, ci sarà appunto questo evento che si chiama Prisma, appunto una figura geometrica dalle tante sfaccettature. In occasione di Artifiera le associazioni coinvolte, diciamo che si occupano principalmente di arti visive e appunto abbiamo organizzato, io personalmente ho organizzato questa mostra che si chiama Homo Sapiens in cui sono stati coinvolti sei artisti, di cui fanno parte Filippo Tappi, Filippo Cecconi, Paolo Bufalini, Paul Barsch, Thirman Hortnig e Martin Varroi i quali li ho selezionati semplicemente perché sono interessato alle poetiche dell'oggetto, in cui appunto l'oggetto è la parte principale dell'opera d'arte ciò che mi interessava era creare una connessione tra persone che appunto lavorano in ambito, comunque in modo piuttosto simile, affine più che simile e farli incontrare. Poi ci sono anche altri progetti tra cui Mock Jungle, questo progetto consiste in una serie di mostre personali di video artisti che vedranno trasmessi i propri video all'interno di questo schermo in loop per circa due settimane, quindi si tratterà di un progetto che inizia in occasione di Art City e Arte Fiera ma diciamo che non si fermerà dopo la fine di questi eventi ma proseguirà per tutto l'anno all'interno degli spazi di DAS Poi andando avanti abbiamo altri due progetti video che sono i racconti di Nessuno, Nobody's Tales di Lele Marcoianni in cui appunto gli spettatori potranno fruire un libro in un modo piuttosto insolito, inaspettato Poi all'interno della nuova stanza che è stata costruita, all'interno degli spazi di DAS ci sarà l'installazione di Pietro Alex Marra in cui appunto è partito proprio da quelli che sono gli elementi fondamentali della nostra coprogettazione, del nostro lavoro per realizzare una videoproiezione L'evento Prisma proseguirà venerdì, sabato e domenica in mattinata con tre live il primo di Davide Bartolomei, il secondo di Fredrik Andreoni e il terzo di Simone Grande Mi chiamo Simone Grande, sono uno studente del Conservatore di Bologna oltre all'attività studente lavoro per produzioni musicali ho uno studio qua a Bologna e per DAS suonerò il 3 febbraio domenica faremo una performance insieme a quattro cantanti dove io farò dell'elettronica live e i quattro cantanti invece appunto canteranno in determinati momenti specifici durante la performance e verrà eseguita la mattina alle 10 e mezza per l'evento Termos Ciao, sono Andrea Maurizio Campo, sono membro del direttivo DAS e con Alex Pietro Marra abbiamo realizzato questa installazione video virtual DAS che sarebbe una rappresentazione iconica delle dinamiche relazionali che andrete a vedere fra qualche mese qui all'interno del DAS abbiamo voluto dare questa sorta di rappresentazione fisica e video di quello che succederà qua all'interno il progetto è stato realizzato tramite registrazioni audio dell'ambiente situato qui al DAS e poi modificato, sovrapposto e la parte video è tutta un intreccio di passaggi perché il posto dove stiamo vivendo e creando l'evento verrà passato da milioni di persone, si spera e il tutto verrà posto all'interno della saletta multimediale Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti